Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, buona serata a tutti voi. Questa sera ho furbescamente indossato degli occhiali particolari perché incontreremo il dottor Luca Brandi che è un oculista che collabora con il centro di Fisioradi Medical Center. Perché ho definito questi occhiali particolari? Perché come vedete sono molto piccoli, mi danno la possibilità di guardare in maniera definita, chiara, la telecamera che è di fronte a me, ma allo stesso tempo abbassando gli occhi posso leggere il foglio che ho di fronte. Questa è esattamente la differenza che esiste fra miopia e presbiopia e oggi il dottor Luca Brandi ci spiegherà esattamente come stanno le cose. Dottor Luca Brandi, medico oculista, buonasera. Buonasera. Bentornato con Rossini TV, bentornato con i nostri ascoltatori che seguono questa trasmissione con grande interesse. Il tema che affrontiamo oggi è un tema di grandissimo respiro perché abbiamo la possibilità di approfondire una tematica come la miopia. La miopia, cosa si intende dottore? La miopia è un difetto visivo che è estremamente diffuso nella popolazione. Ormai abbiamo la maggior parte dei ragazzi che ha difetti visivi di tipo miopico, soprattutto a causa di un eccesso di tempo passato ad esercitare una visione prossimale. Sono quasi tutti impegnati sempre con cellulari, videogiochi oltre allo studio e questo fa sì che praticamente la visione sia sostanzialmente sempre limitata nei primi 50 centimetri. Quindi ci troviamo di fronte ad una patologia che si sta diffondendo sempre di più, che inizia in età scolare e poi pian piano tende ad aggravarsi, a progredire fino generalmente a 20-25 anni e dopo in parte legata a fattori di tipo genetico. Quindi figli di genitori miopi più spesso hanno effettivamente un'evoluzione verso la miopia, però si è visto anche che fattori ambientali giocano un ruolo molto più importante nel determinismo del difetto finale. Se una volta genitori miopi di meno 3 avevano dei figli che più o meno erano miopi di meno 3, oggi ci troviamo di fronte anche a figli che hanno una miopia che è quasi una volta e mezzo o due volte quella dei genitori. Le motivazioni sono prevalentemente quella della visione prossimale, in parte anche spesso del fatto che passano molto tempo a livelli di luminosità ambientale come quelli indoor che sono molto più bassi rispetto all'illuminazione esterna. Quindi chi passa tanto tempo all'aria aperta al sole tende a sviluppare delle forme di miopia meno gravi e a rallentare l'aumento del difetto molto più rapidamente. Per miopia si intende in pratica la difficoltà di vedere bene da lontano? Sì, diciamo che il miope vede sfocato, vede annebbiato da lontano. Il primo problema nella vita di tutti i giorni è quello appunto che finché non mette l'occhiale o la lente a contatto la sua visione non va oltre i 50-70 cm secondo ovviamente della miopia che ha e ha anche un occhio che è fondamentalmente più delicato e più vulnerabile rispetto ad un occhio non miope. Quindi c'è maggiore incidenza di distacco di retina, maggiore incidenza di glaucoma, la patologia legata alla pressione dell'occhio, ma anche a maggiore incidenza di patologie della parte centrale della retina, della macula, sia maculopatie sudative che maculopatie degenerative, atrofiche, quindi che colpiscono sia la retina stessa che l'interfaccia vitroretinica. Quindi diciamo che purtroppo la miopia aumenta una fragilità di questo organo così importante diventa in pratica quasi un portatore di fattore di rischio per ulteriori patologie che potrebbero essere più gravi. L'ho già accennato prima dottore dicendo appunto che oggi sono tanti i ragazzi giovani che comunque probabilmente in un futuro potrebbero ritrovarsi ad avere dei problemi di miopia. Tant'è vero che leggo una definizione miopandemia, si legge proprio una definizione riferita a un possibile futuro fra qualche anno nella quale ci troveremo di fronte a una miopandemia, cioè? E cioè sembrava una cosa un po' strana, invece molti studi scientifici confermano che c'è un aumento notevole negli ultimi decenni della prevalenza della miopia nel mondo, quindi non solamente in Italia, cioè diciamo che nei paesi industrializzati in particolar modo, soprattutto in Oriente. Dopo c'è una questione di tipo genetico dove sicuramente i paesi orientali vedono una maggiore frequenza di questo difetto, ma c'è anche proprio il discorso del comportamento dei nostri figli che appunto come diciamo prima passano troppo tempo ad esercitare la loro visione di una resistenza ravvicinata. Oggi come oggi infatti si stima che nel 2050 ci possa essere addirittura metà della popolazione miope e questo sarà un problema molto importante proprio sia di qualità di vita ma anche proprio per i sistemi sanitari insomma. Quindi un bambino che si accorge di essere miope per tanti motivi, correggiamo questa miopia con gli occhiali, ma di fronte a una situazione così in evoluzione probabilmente ci sono anche delle novità dal punto di vista della tecnologia sulle lenti. Esatto, diciamo che sostanzialmente rispetto al passato si è visto che ci sono, porca parole, delle tecniche, dei trattamenti di vario tipo che riescono a rallentare questo peggioramento della miopia, cioè la progressione miopica. Rallentare la progressione miopica e quindi l'aumento del difetto visivo, ma che significa anche l'aumento della lunghezza del bulbo perché la miopia alla fine è un allungamento del bulbo, circa una diottria ogni tre, tre diottrie ogni millimetro, diciamo che fondamentalmente riusciamo con queste lenti a contatto con questi occhiali che hanno una particolare tecnologia che si chiama defocus periferico a rallentare questa progressione miopica. In maniera similare tecniche che erano state già validate anni fa hanno sempre di più oggi subito una diffusione proprio perché si è visto, appunto anche supportati da evidenze scientifiche, che hanno una notevole efficacia anche in un 70% di casi nel rallentare questo peggioramento della miopia come ad esempio l'ortocheratologia, che è l'applicazione di lenti a contatto a geometria inversa che vengono applicate durante la notte, che consentono durante il giorno una buona visione senza occhiali, ma questo diciamo è un placebo, invece la cosa importante è che creano anche queste, questo profilo ottico particolare che permette un defocus periferico e quindi diciamo a fronte di una visione nitida al centro, per vicino, quando i ragazzi leggono, quando guardano il cellulare, hanno questa specie di alone paracentrale di lieve sfocatura che inganna l'occhio e che blocca i meccanismi che portano alla miopizzazione. Poi ci sono anche dei trattamenti farmacologici che anche quelli sono parecchi anni che sono diffusi e che hanno qualche limite legato soprattutto al fatto che ancora non esiste un collirio, sono tutte preparazioni galeniche, quindi non esistono ancora dei colliri ufficiali ma stanno uscendo a breve e anche quella terapia diciamo farmacologica può permettere un notevole rallentamento di questa curva di progressione miopica. Quindi grande evoluzione della tecnologia, della scienza, sull'occhio sappiamo quanto è importante, però anche gli adulti molto più spesso sono sempre attaccati al cellulare, guardano da vicino e per loro si presenta dopo invece il problema della presbiopia, cioè ci accorgiamo all'improvviso e me lo dico a me stesso plurale maestatis che da lontano continuo a vedere male ma da vicino ho bisogno di togliere gli occhiali per leggere e questo è un altro fenomeno ancora. E questo è il fenomeno che compare più avanti, nel senso che prima compare questa miopia poi a un certo punto il miope si accorge di non riuscire a mettere a fuoco perché comunque anche il miope, forse più tardivamente rispetto all'ipermetrope, anche il miope incomincia ad avere questa inerzia nella messa a fuoco, questa inerzia accomodativa, questa difficoltà messa a fuoco che porta sempre di più ad allontanare il cellulare, poi a ingrandire i caratteri e poi a un certo punto incomincia a togliere l'occhiale perché senza occhiali si accorge di vedere nitido e purtroppo quella è una cosa a cui bisogna far fronte anche lì con un'adeguata correzione con occhiali o lenti a contatto, adesso ci sono anche lenti a contatto progressive, ci sono tanti tipi di occhiali, non solo i progressivi classici ma degli occhiali specifici anche per ad esempio lavorare al computer, occhiali tipo office che permettono di avere comunque una multifocalità che permette di coprire la distanza diciamo della lunghezza del braccio in poche parole e bisogna a un certo punto arrendersi all'idea che bisogna passare a quel tipo di correzione. Arrendersi in poche parole al passare degli anni, contemporaneamente non arrendersi e continuare a trovare le soluzioni per vedere sempre meglio. Un'ultima cosa dottore, siamo in un centro di fisioterapia, certamente tante persone che vengono qui lo fanno per problemi che sono non direttamente legati a una questione visiva però magari delle posture sbagliate, dei modi di stare proprio in piedi o non solo, anche al computer sbagliati possono portare dei problemi di vista. Certo, allora prima di tutto mi ricollego proprio al discorso della miopizzazione del bambino, tantissimi bambini tendono ad avvicinarsi tantissimo al cellulare, al libro, addirittura a chinarsi su un quaderno per scrivere e quello è un atteggiamento posturale che oltre a creare delle problematiche al collo, alla schiena eccetera indubbiamente stimola enormemente il peggioramento della miopia perché proprio è il sistema dell'accomodazione, cioè della messa a fuoco da vicino che se sollecitato esageratamente stimola come dicevamo l'aumento della miopia per cui la prima cosa da consigliare ad esempio proprio nei ragazzi e nei bambini è di aumentare la distanza dal quaderno e comunque di mantenere una corretta postura, cosa che non è sempre facile, però nell'adulto altre problematiche subentrano anche perché tendenzialmente tendono a cronicizzarsi determinati comportamenti sbagliati, ad esempio comunque vediamo molte persone miopi in spasmo accomodativo, cioè miopi di meno 3 che siccome arrivano ad essere presbiti tendono a sforzare tanto per vedere da vicino e alla fine arrivano in ambulatorio che gli è calata la vista da lontano, sì anche da vicino però tolgo gli occhiali tanto, in realtà il problema è che vanno in spasmo perché non hanno una correzione adeguata da vicino per cui devono contrarre la muscolatura che mette a fuoco proprio per cercare di vedere da vicino simulando una miopia maggiore di quella che hanno e infine è tutta una serie di posture sbagliate col collo con la schiena eccetera che effettivamente a volte sono correlate all'occhio anche se non è semplice capire dove la colpa è del sistema visivo e dove invece del sistema scheletrico e osteoarticolare. In pratica non è facile capire dottore se nasce prima l'uovo o la gallina per concludere in maniera culinaria. Qui potremmo effettivamente essere nel posto giusto per cercare di fare un'analisi un po' più approfondita di queste cose. Di queste cose certo. Dottor Luca Brandi grazie davvero è stato davvero interessantissimo, ci ha spiegato tante cose, ci ha chiarito le idee su molti aspetti. Prego. Buona serata a voi, salutiamo il dottor Brandi e mi raccomando lunedì prossimo un nuovo appuntamento con CheckUp Obiettivo Salute qui da Physioradi Medical Center. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.